Buon pomeriggio a tutti, bentornati e benvenuti qui sul mio canale. Se ancora non l'aveste fatto io vi invito ad iscrivervi e a lasciare un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Prima di cominciare con l'argomento di oggi, ovvero la Coppa Davis, spendiamo qualche parola sulla chiusura del caso doping inerente a Yannick Sinner. Direi molto bene, sospiro di sollievo, ci lasciamo alle spalle questa brutta vicenda, Yannick assolto totalmente, innocente al 100%, la Vada non ha presentato ricorso, il termine ultimo era la mezzanotte di ieri e quindi direi che ora possiamo concentrarci sul tennis giocato, possiamo concentrarci su questo finale di stagione che prevede ancora molti tornei e soprattutto tanto sport, tanto tennis giocato come piace a noi. Parliamo di Davis, della Coppa Davis, l'Italia come tutti sappiamo è campione in carica, però come mi ha scritto qualcuno di voi nei commenti e come magari qualcun altro nel canale potrà tra virgolette aver bisogno, facciamo chiarezza e andiamo nel dettaglio a raccontare come si svolge la Coppa Davis, quali sono le regole e chi sono i protagonisti, le nazionali che si contenderanno il titolo nell'edizione 2024. Intanto la fase a Gironi si svolge dal 10 di settembre, quindi è iniziata oggi, sino a domenica 15. Le sedi delle partite sono Bologna, Manchester, Valencia e Zuai in Cina e appunto l'Italia è campione in carica. Ci sono due fasi, una fase a Gironi che è quella appunto che si svolge dal 10 al 15 di settembre e poi c'è la fase finale, le finals che prevede quarti di finale, semifinale e finale che si svolgerà più avanti, a novembre se non sbaglio. Fase a Gironi, ci sono quattro gironi da quattro squadre ciascuno e ogni nazionale dovrà competere contro tutte le altre nazionali del proprio raggruppamento, quindi l'Italia che è raggruppata con Olanda, Belgio e Brasile dovrà giocare contro tutte e tre le nazionali. Ogni sfida prevede tre partite, due nel singolare e una nel doppio. Per vincere, per passare, per guadagnare un punto che vuol dire vittoria bisogna vincere almeno due sfide su tre. Passano le prime due di ogni girone e le due che passeranno, in totale quindi saranno otto squadre per i quattro gironi, si contenderanno nelle finals la vittoria finale. L'Italia, appunto come abbiamo detto, è nel girone con Olanda, Belgio e Brasile. Volandri, l'allenatore, ha convocato Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Andrea Bolelli e Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Ha lasciato a casa, in via precauzionale, sia Sinner che Musetti per riposare dopo le fatiche estive. Sinner viene dalla vittoria degli US Open, Musetti ha fatto molto bene alle Olimpiadi con il bronzo, ha fatto bene a Wimbledon semifinale. Insomma, aveva bisogno di riposare, ma direi che, viste anche le avversarie e visto il livello dei nostri tennisti, ci sono tutti i presupposti per accedere anche abbastanza comodamente, senza sottovalutare nessuno, alla fase conclusiva. Ora, abbiamo detto che ogni squadra giocherà tre partite e i match saranno, in ogni singola partita, due del singolare e uno nel doppio, obbligatoriamente. Per quanto riguarda il singolare, per tradizione gioca sempre il numero uno della propria nazione, quindi se ci fosse stato Sinner ovviamente sarebbe stato lui, se ci fosse stato Musetti e non Sinner sarebbe stato Musetti, in questo caso si va a guardare il ranking. Quindi il numero uno del ranking italiano con i partecipanti, con i convocati, scenderà in campo, successivamente il numero due e poi il doppio. Il doppio non ha regole, Volandri potrà schierare chi vuole, anche se, chiaramente, viste le convocazioni, al 99% la coppia sarà Vavassori e Bolelli. Mentre nel singolare abbiamo Berrettini numero 43, Cobolli numero 32 e Arnaldi numero 33. Però staremo a vedere quali saranno appunto le scelte dell'allenatore azzurro. Altri criteri, in caso di arrivo a pari punti, al termine del girone, si guarderà il risultato nello scontro diretto con la squadra con la quale si è arrivati a pari punti e poi gli altri criteri sono il maggior numero di partite vinte oppure il maggior numero di sette vinti. Andiamo a vedere quali sono questi gironi, perché è vero, girone A, l'Italia, Belgio, Brasile e Olanda, come abbiamo già detto, l'Italia giocherà domani contro il Brasile, contro il Belgio giocherà il 13 settembre, contro l'Olanda giocherà domenica 15. Girone B che vede come protagonisti Australia, Repubblica Ceca, Francia e Spagna. Girone C con Cile, Germania, Slovacchia e Stati Uniti. Girone D, Argentina, Canada, Finlandia e Gran Bretagna. L'anno scorso l'Italia, come ben sappiamo, ha vinto in finale contro l'Australia in maniera abbastanza netta, ma diciamo la vera svolta era stata in semifinale con quella rimonta di Sinner contro Djokovic salvando tre match point, Serbia battuta in semifinale, mentre Olanda ai quarti. Per quanto riguarda la fase a gironi, l'Italia era stata sorteggiata con Canada, Cile e Svezia. L'avvio era stato horror perché sconfitta per tre partite a zero contro il Canada che non lasciava presagire nulla di buono e poi è arrivata una vittoria con Cile e Svezia che ci ha fatto staccare il pass per la fase finale. Andiamo a vedere chi sono i convocati del Girone, delle nazionali che interessano l'Italia, perché se per la nazionale azzurra abbiamo, come abbiamo detto, Arnaldi, Cobolli, Berrettini, Bolelli e Vavassori, il Brasile schiera Tiago Monteiro, Felipe Meligeni, Joao Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo. Il Belgio invece ha Bergs, Blox, Collignon, Gilles e Villeggen, mentre l'Olanda Tallon Grigsburg, Van Den Zalschup, De Jong, Ass e Koloff. Ora, sulla carta l'Italia è nettamente favorita per arrivare avanti, arrivare alla fase conclusiva del Girone e, a mio modo di vedere, anche per terminare al primo posto del Girone. Chiaramente sarà fondamentale quest'anno partire con il piede giusto, onde evitare poi di dover fare di monte o imprese, quindi la prima partita di domani contro il Brasile diventa già cruciale, diventa fondamentale. Partire con il piede giusto vorrebbe dire già quasi essere certi del passaggio alla fase conclusiva e poi con il Belgio, credo che anche l'Italia abbia tutte le carte in regola per vincere le prime due partite e poi magari l'ultima con l'Olanda che, sulla carta, a mio modo di vedere, è quella un po' più insidiosa, il risultato potrebbe già non contare ed è questo l'augurio. Un'Italia che era da un sacco di anni che non vinceva la Davis, quest'anno sarebbe bello poter difendere il titolo, anche perché nella fase poi finale sicuramente scenderebbe in campo anche Yannick Sinner, anche Lorenzo Musetti, insomma la nazionale al top e non vedo altre squadre che possono tenere il passo con gli azzurri perché oltre a Yannick, che è il numero uno del mondo, il giocatore attualmente più forte in tutto il panorama tennistico mondiale, abbiamo anche Musetti che comunque può veramente dire la sua, oltre a due doppisti come Bolelli e Vavassori che se stanno bene, se sono in giornata e fanno le cose a modo, non hanno veramente, hanno veramente pochi rivali. Quindi ecco, questo è un po' il regolamento, niente di complicato, niente di difficile, se avete qualche domanda, se sono stato poco chiaro, scrivetela pure qui nei commenti, io cercherò di rispondere a tutti e niente, io vi do appuntamento questa sera per un nuovo video in cui andremo un attimo a vedere qual è la stagione di Sinner, da cui a fine anno, quali sono i prossimi impegni, quali sono i tornei, quali sono i punti che cercherà di difendere o di conquistare, insomma, ancora tanto tennis e tanto da dire. Io intanto vi auguro un buon proseguimento di giornata e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale per un nuovo video. Ciao a tutti!